dunque è su youtube dunque quindi non è quello ne approfitto per dirvi ore e giorni fare autopsichiotria ma il pensiero di tornare indietro rimane solamente un'utopia niente di serio ore e giorni la parete è di non pensare come stare versato se salivo nell'arcometro non cambierebbe non pensavamo mai non pensi a capitare a lui non pensavamo che quel luglio sempre cambia del tutto in varia degli effetti fuori i conflitti dai cosi di come lei non toccare quando meno te lo affetti il giocatore non ti ha toper un secondo non può voler fermare il volto ma si dà la stessa passo per far aganderti nel corso ore e giorni a fare autopsichiotria potete vedere il destino come questo peschino troppo di probabilità niente di serio ore e giorni la parete è di non a pensare come stare versato se saliva nell'altrometro non cambierebbe non pensavamo mai non pensi a capitare a noi non pensavamo che quel luglio sempre cambiare tutto in varia degli effetti fuori i conflitti dai ricordi nel corso era in sotto casa quando meno te lo affetti e te fermo sia tu per un secondo come a voler fermare il mondo partire la stessa passa per far rendersene pronto non pensavamo mai non pensi a capitare a noi non pensavamo che quel luglio sempre cambiare tutto in varia degli effetti fuori i conflitti dai ricordi mi troverai in sotto casa quando meno te lo affetti e te fermo sia tu per un secondo come a voler fermare il mondo partire la stessa passa per rendersene pronto